cari amici oggi realizzo questo video per far vedere il prodotto a 360 gradi questo mersupio, c'è una cerdiniera qui davanti, la parte anteriore abbiamo la parte, la borsa la togliamo per far vedere bene, una tasca all'interno, porto oggetti, c'è la tracolla, quest'altra tasca qui davanti, quello chiudiamo, faccio vedere la tasca anche anteriore con lo strap, posteriore anzi, la parte posteriore e così, così c'è anche nero, uguale, la stessa, è realizzato in tessuto e il tutto viene spedito con un corriere espresso SDA.